Un saluto a tutti gli utenti del internet, no, tutta rossa, sai che scena? Ciao a tutti da Chris Attigenza, salutatore del blog, è per me una grandissima sorpresona, il grandissimo Lino Baffi che è una sorpresa per tutti voi, bravo, bravo, grazie e complimenti per tutto, un grande, ciao!